Se con una mamma e una figlia insieme si riesce a portare in fondo la strada in maniera più efervescente, piacevole e fizzata. Loro scrivono libri, recitano, scrivono e cantano canzoni. Sono Matilde Calamai e la figlia Sofia Anzi. Sono Mati e Sofi. Magliattora sono Cip, Bum, Bum! Ehi, buonasera a tutti! Buonasera! Buonasera tesoro! Buonasera Sofia! Buonasera! Ecco! Devi sapere che noi canterremo! Canterete perché qui c'è tutto un progetto. Lei, Matilde Calamai è un volto noto e piacevole. Voglio dire, perché non c'è bisogno di sottolineare. E come potete dire, siamo alla mamma, tutta a posto. Benissimo! Benissimo! Sei già pronta per cantare? Ciao! 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 Grazie a tutti.